Innanzitutto vi ringrazio per la presenza e comunque va sempre a un certo effetto per me questo tipo di manifestazione nella quale si parla sempre di mio padre per cui nonostante gli anni passano ci sembrò un gran bel ricordo negli occhi delle persone per cui questo mi va veramente molto piacere. Ci siamo accolto con sorpresa all'inizio la voglia di Antonio di creare una sezione speciale, accolta comunque in maniera positiva e mi ha fatto anche molto piacere vedere che c'è stata comunque un'ottima risposta da parte delle persone e dei partecipanti. Come membro della selezione Sandri, non solo qui in veste di rappresentante, però garantirò comunque il mio impegno affinché l'associazione Sandri sappia di queste importanti manifestazioni che Irene Sparagna e Antonio San Gervasio hanno voluto creare. L'associazione Sandri è un'associazione che nasce ormai da qualche, da più di un anno dal fatto di Gabriele e è una fondazione che appunto ha come scopo quello di avere un maggior rispetto dell'umanità e delle persone con l'etica dello sport al di fuori del campo dell'etica. Come appunto sapete in questa fondazione c'è la presenza attiva del Comune di Roma davanti del calcio e speriamo prossimamente alle parole facciano seguire anche i fatti di questa importante manifestazione. e comunque vi ringrazio tutti per questa bellissima giornata, spero che ce ne siano altre e che magari ci sia sempre un movimento di grande attenzione verso una situazione che è quella della violenza di fuori del campo da gioco e che ci sia sempre maggior rispetto nelle persone. Io vi ringrazio tutti e buona serata.